Ciao a tutti! Siamo oggi qui per fare il terzo slime, per poi unirli agli altri due. Abbiamo una palettina piccola qui, poi una palettina grande, che è tutto questo contorno, questo qua, poi delle forbici per aprire le bustine, il barattolo per il terzo slime e la polvere che lo fa diventare rosa. Abbiamo i due slime già pronti, la colla e questo che cos'è? L'attivatore e la pipetta. E la pipetta, esatto! E il barattolo graduato, l'hai già detto. Ma l'ho già detto! Scusa, non avevo sentito. Allora, misura nel bicchiere graduato 30 ml di colla. 30 ml di questa, vai! Assistente! Assistente! No, non mi serve adesso! L'assistente tiene sul tavolo, se no non posso inquadrare. Benissimo! E girala dal lato dove non c'è l'alluminio, il barattolo, mentre versi. Così, sta versando il nostro versatutto. Sì, si chiama il versatutto. Oh oh! Cos'era? Niente, niente. Sono le sei. Esatto. Poi, aggiungi una spatolina di colorante in polvere e richiudi con un pezzetto di nostro adesivo la bustina. Mettiamo in pausa un attimo. Scusate, ma stavamo chiamando Sgranocchia, che è la nostra gatta. Qui c'è il cucchiaino, Ginny, il cucchiaino rosa da versare dentro alla colla. Mettiamo! Vado! Te l'ho lasciato dalla mano sbagliata, senza pucciare il cucchiaino nella colla. Non l'ho versato. L'ho versato tutto. Bene. Riccardo! Ecco qui! Ecco qua! Con l'aiuto della pipetta, aggiungi 12 ml di soluzione attivatrice, cioè 4 pipette ben riempite. Come facevamo con le pipette? Lui le riempiva e io le spruzzavo. Ok. Giusto, Ricci? Uh-huh. Prego. Voilà. Ok. Uno. Noto degli intrusi in casa che non dovrebbero esserci. Due intrusi pelosi. Due intrusi pelosi. Schiaccia, Ginny. Cioè le nostre due gattine. Che si chiamano? Fragoline e sgranocchia. Fragoline e tricolore, mentre sgranocchia con la nera. Vai. E la Crici ti indovinate che colore è? E la Crici bianca? E la Crici bianca? Sgranocchia nera e bianca. Sgranocchia nera e bianca. Sgranocchia nera e bianca. Tieni il bicchiere un barattolo con una mano un po' inclinata e pesca. Eh, va Ok, non l'abbiamo finito Terza Vada Con una mano pieno inclinato e con l'altra pesca Quanto? Ops, è caduto È caduta la pipetta È caduta la babadda Dai! Aspetta, aspetta Non vedo l'olio di mescolare Ma mescolerà con questa o con l'altra? Con questa? Ok, quarta Mamma Ma secondo te devo mescolare con questa o con questa? Con questa Chiudiamo tutto Da questo lato, non dal lato del cucchiaio, dal lato della spatola Questo Quello è il cucchiaio, dall'altro lato dove c'è la spatola Ma no, questo è il cucchiaio che bisogna mescolare No, mescoli con la spatola, dice Questa è la cina Va bene, mescola con quello che vuoi Basta che mescoli, piano piano All'inizio Giro, 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 giro Uh, vedete? Sta venendo tutto rosa Il nostro Aiutante se n'è andato Quindi si vede Uh, guardate che carino Molto slime Da casa Ve lo dico io È super liquido Vai, vai, gira Non è ancora No, no, si tiene sempre il barattolo, eh Se no, mentre giri il barattolo Guardate Bellissimo Tutto appiccoso Mi ricorda qualcosa Non lo saprei dire A me mi ricorda slime Che si sta per creare Oh, oh Si è appiccicando tutta la paletta Ciao a tutti Alla fine bisognava Mascolare con l'altra parte Guardate che slimoso Adesso bisogna Lasciarlo riposare Per 15 minuti A dopo Ciao Ciao